ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi vedremo un video fantastico lego interamente tematizzato lego però è un video speciale ossia con tutti i lego che ho preso faccio un video quindi vi faccio vedere che lego preso tra cui questa bella macchina guardate che spettacolo lo spettacolo perché me l'hanno regalata ma dopo la testeremo meglio insieme me l'hanno già data così e niente quindi adesso andiamo a vedere questa fantastica macchina poi andiamo a vedere il resto ok quindi mi raccomando non mancate andiamo a vedere questa macchina fantastica come si presenta nel dettaglio ed eccoci qua con la macchina telecomandata guardate che spettacolo veramente a frequenza va a busso però se è staccata qua sopra comunque va a busso è tipo un lego non è proprio un lego ma l'ho portata sul canale perché si presenta bene ecco vedete qua abbiamo i dettagli vi faccio vedere meglio il davanti e niente quindi fari abbiamo ovviamente per estetica non si illumino veramente e spettacolo veramente bella 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 ditelo qua sotto nei commenti se vi piace anche a voi ecco e andiamo a vedere altri lego fantastici dai andiamo a vedere andiamo a vedere diversi lego adesso cioè andiamo a vedere quello di minecraft e poi tanti altri quindi andiamo a vedere un attimo questo lego qua come si rappresenta e tutto quanto ok allora questo lego qua praticamente 8 più l'ho preso a lidl a 20 euro mi pare tempo fa e a natale nel periodo di natale quindi ha un po' di tempo e niente questo è veramente stupendo spettacolare oggi ve lo farò cioè lo farò poi ci vediamo un quattro a un secondo sul canale che vi faccio vedere come è venuto questo fantastico lego ok farò vedere i lego che porto adesso perché ci saranno diverse parti tra cui dei lego che ho ma non ve li faccio vedere tutti per motivi di tempo e poi perché non posso farvi vedere tutti quindi farò diverse parti mi raccomando non mancate alle prossime parti alle prossime parti e niente quindi andiamo a vedere adesso per iniziare un fantastico lego minecraft quindi io lo monto lo assemblo tutto quanto off camera poi ci vediamo 3 secondi qua sul canale perché se no diventerebbe troppo troppo lungo il video ok andiamo a vedere come si presenta il risultato finale allora ragazzi vi volevo far vedere la casetta come si presenta guardate che spettacolo ci ho messo un'oretta circa a costruirla del tutto vedete questo è di minecraft è veramente spettacolare guardate i dettagli ma anche le carote vi volevo far vedere le carote piccole abbiamo due cavalli uno nero e bianco e uno diamante però il mio preferito è nero e bianco anche se il diamante è molto bello ve le faccio vedere anche da di lato guardate che spettacolo e niente tanta roba comunque in minecraft vi ricordate che avevo fatto già un video che vi avevo fatto vedere un altro altri lego quindi andatele a recuperare c'è un altro lego in realtà quello si è smontato purtroppo quindi lo dovrò sistemare e si possono allungare quindi i set sono compatibili con altri set ed è veramente spettacolare questo è l'omino i cavalli purtroppo la cosa che non mi piace è che non stanno fissi cioè non si mettono nella basetta ma comunque va bene c'è il prato c'è tutti i dettagli e tutto quanto ci ho messo un'oretta per chi va veloce e spedito per chi è più lento forse due orette circa quindi non è neanche tanto secondo me si può costruire di meglio più grande e enorme come i progetti che vi posso far vedere dopo che ha un botto di pezzi ci sono diversi dettagli come questi da parte che bisogna tenere le carote in mezzo mondo e comunque niente adesso andiamo a vedere un fantastico altro lego da montare dai andiamo a dirlo un altro allora ragazzi adesso faremo questo fantastico lego che è una sport immensa chissà quale sarà guardate che cosa c'è qua dentro la mano dell'infinito ragazzi abbiamo anche un altro lego ma l'altro lego non lo faccio perché è piccolo non lo faccio oggi e poi l'ho già fatto perché è minecraft quindi un lego inerente a minecraft l'ho fatto comunque ci saranno diverse parti nel senso come vi ho detto prima ci saranno altre parti vi dico già che una parte ci sarà ad ottobre ritornerò sul canale con la seconda parte video speciale lego quindi recupererò se riesco altri fantastici lego mi raccomando non mancate e niente questo è l'ego del guanto dell'infinito di Ironman comunque questo l'ho preso alla lego a Bologna comunque ritornerò anche sul canale con il guanto dell'infinito mi raccomando non mancate i prossimi video adesso a breve ordinerò un pacco per chi se lo fosse chiesto e andrò avanti comunque è 18 più questo lego e ha 175 passi e adesso lo andiamo a fare io ve lo farò vedere tra un secondo che lo monto lo assemblo e tutto quanto non vedo l'ora di farvelo vedere dai andiamo a vederlo ed eccoci qua ragazzi con il guanto di Ironman vedete non vedevo l'ora di farvelo vedere ci ho messo un giorno e mezzo comunque è veramente complesso anche perché è 18 più ed è però spettacolare comunque credetemi che è veramente complicato ho avuto tre sacchettini micidiali pensate che questo lego costa 50 euro adesso vi faccio vedere lo scontrino ancora no scusate 70 euro ok 70 euro costa va bene e niente quindi per 70 euro ci danno e praticamente ci hanno dato tre sacchettini pensate in un lego il doppio costoso quanti sacchettini ci darebbero veramente è veramente spettacolare vi faccio vedere anche nei minimi dettagli guardate che spettacolo ci ho messo un po' a capire diversi punti ma comunque ce l'ho fatta adesso con il lego mi fermo qua in questo video speciale però nel prossimo video ci sarà un video sorpresa cioè nel senso un lego sorpresa quindi voi non lo vedete nella copertina ma io praticamente lo metterò qua è scoperto ma comunque è così e niente come si presenta in vetrina questo è bello da esposizione non fa luci non fa suoni ma secondo me si può aggiungere qualcosa le dita sono pieghevoli non so se riuscite a vedere ma non riesco neanche inquadrare nella telecamera ma ve lo metto giù così vedete che si piegano tutte le dita è veramente spettacolare e niente quindi seguitemi per vedere quanto dell'infinito che a breve ritornerà sul canale ripeto e anche Ironman quindi seguitemi per questi due fantastici modellini qua che sto portando a termine Ironman quindi sto recuperando piano piano e farò un video speciale e diversi video poi abbiamo vi faccio vedere tutti i lego che ho fatto in questo periodo qua allora abbiamo anche sul canale tutti sul canale li ho portati questo è Mandalorian che non mi ricordo cioè un po' mi è caduto quindi non mi ricordo precisamente come è stato messo comunque guardate che spettacolo questa naveccella spara questi guardate un po' guardate allora spingiamo qua la levetta e vedete esce è uscita il pallino poi potete cambiare anche colore nel senso qua ci danno per estetica rosso però potete mettere diversi colorazioni voi poi abbiamo adesso vi faccio vedere un altro lego fantastico sempre di Star Wars tema Star Wars che abbiamo assemblato da poco aggiunta la spada laser come vi dicevo e aggiunta la basetta questo è Darth Vader vedete che spettacolo dobbiamo fare l'altro Obi-Wan che ci hanno dato il set che non ho ancora fatto non ho ancora costruito ragazzi perché se lo fosse chiesto ovviamente lo porterò sul canale ma nel video speciale Star Wars che a breve ritornerò con la seconda parte di Star Wars poi abbiamo che mi avete chiesto quando lo porterò a breve questa che è un monster tracker lego tackling bellissima è a retrocarica questa qua vedete anche la bandierina l'abbiamo montata sul canale l'abbiamo fatta uno dei primi lego che ho portato sul canale ed è veramente spettacolare una delle poche ancora intere e poi sempre lego tackling abbiamo questa gru che praticamente va su e giù il brazzo vedete va su e poi si regola che abbiamo assemblato anche questo in tre parti sul canale sempre guardate che spettacolo che qua si regola se volete più basso vedete me lo mette giù se volete più alto me lo mette su ebbene e vi faccio vedere l'ultimo hanno il lego che ho fatto prima di Minecraft che l'altro ce l'ho giù smontato come vi ho detto e non riesco a farvelo vedere questo è il video di questo cioè no questo è il lego che ho fatto prima si questo ragazzi dicevo è il lego che ho fatto prima vi ricordate bene qua abbiamo il cavallo scheletrico e tutto quanto vabbè si è un po' staccato anche qua la base comunque dopo sistemerò io e niente andiamo a vedere l'ultimo lego che vi volevo far vedere guardate un po' sempre a tema Star Wars ha preso un po' di povero ma non ci fate caso perché è da tempo che non lo spolvero cioè che non ci guardo e questo è il mio primo lego Star Wars sempre abbiamo perso qua una pallotta ma comunque semplicemente si mette perché nella confezione se lo danno uno di risalvo uno o due quindi lo metterò in seguito allora vi volevo dire un'altra cosa che mi sono dedicato prima di dirvi che i cavalli di Minecraft mi sembrava strano che non si potevano unire ma si uniscono in queste basette qua vedete io il cavallo scheletrico e il personaggio dello scheletro li ho bloccati giustamente vabbè era bloccato fino a un minuto fa ma non facciamo danni lo mettiamo via sicuro prima che facciamo danni ragazzi comunque vedete si attacca così ecco con una mano un po' difficile comunque niente quindi mettete un palo mi piace questo fantastico video dei lego quindi vi metto il lego in bella vista guardate che spettacolo e niente noi ci vediamo al prossimo video che sarà venerdì ovviamente con un video speciale bellissimo e non mancate mi raccomando che ritornerà un modellino che stavo facendo quindi mettete un bel mi piace mettete un bel mi piace quindi vi aggiornerò nella baccheca commentate iscrivete adesso andiamo a vedere l'anteprima del prossimo video dai andiamo a vedere che non vedo l'ora di farvi vedere poi ci salutiamo ciao ciao al prossimo video ciao ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi monteremo diversi numeri di kit finalmente dopo